Beh, arriva a Cremona, una squadra radiuscita da una sconfitta a Torino, una sconfitta però che l'ha vista protagonista per quasi tutta la partita, anche con ampi margini, così come la trasferta che ha giocato a Trento. Questo per dire che è una squadra comunque che ha già un suo equilibrio, ha già una sua identità precisa, potendo contare su un'intelaiatura confermata nella quale spicca assolutamente il talento di Alston Turner. Ha cambiato giocatori in ruoli importanti, dando spazio anche a giocatori italiani, anche con giocatori giovani ma molto interessanti, quindi è una partita certamente da affrontare con grande presenza mentale, con grande anche attenzione su questi giocatori che sono comunque di grandissimo, di grande talento e da parte nostra è una partita che vogliamo portare dietro e, scusate, portare avanti rispetto a quella di martedì, ovvero cercare di proseguire su quella strada con lo stesso modo di stare in campo, cercando di fare un passettino avanti, sapendo che davanti c'è una squadra che è sempre ostica e di qualità.